Musica Della scuola di pubblica assistenza io ne ho sentito parlare nella mia associazione perché una volontaria aveva già partecipato alla precedente edizione. L'ho vista proprio entusiasta, la cosa mi ha incuriosito, ho voluto partecipare. Musica Mi aspettavo tanto come tutti i corsi di Ampas che io ho fatto dove mi sono veramente trovata bene e ho imparato tanto e mi è servito molto tutta la parte legale che abbiamo fatto ieri mattina. Mi ha colpito la preparazione, mi hanno appunto colpito quelle persone che sono venute qui stanno insieme a noi per farci capire quello che andremo a fare. Musica L'ultimo gioco è stato quello più interessante perché essendo ben dati abbiamo dovuto stabilire un punto di fiducia. Musica Venerdì alla messa eravamo praticamente non lì con uno per tavolo ma quasi. Stamattina a colazione eravamo tutti insieme praticamente uno sull'altro perché questa è l'unione di Ampas e io adoro questa cosa. Musica Dovessi riassumere con una parola Formazione Relazioni Professionalità Formazione E accrescimento personale E soprattutto accoglienza Fantastico Come tutti i corsi di Ampas che comunque ti danno tanto, ti fanno conoscere tanto e ti fanno conoscere comunque altre persone e confrontarti con altre persone. Musica